...della partita di domani sera, c'è anche Mike Richards e Tomovic, vedremo chi dei due potrà giocare nella partita di domani sera, più probabile rivedere all'opera anche il calciatore inglese rientrato dall'infortune, Orezzerini, anche alcuni giovani della primavera, Borca Valero, Basanta, Ilicic, Vargas, vediamo anche Pizarro, accompagnati tutti dal dottor Manetti, in questo momento passano anche Netto e Yasmin.